Ciao a tutti, vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. Sono Franco Martinelli, musicista e docenti di contrabbasso e basso elettrico. Perciò ho ritenuto utile condividere con voi questi studi ed esercizi, iniziando dal basso elettrico. Ci occuperemo in questa prima serie di video dello slab. In questi primi video tratterò l'argomento ottave, o meno lo studio dell'ottave, tecnica molto utilizzata nell'ambito dello slab. Quindi, prestare attenzione alla mano destra, nella quale comincieremo col per cuore la corda di B e la corda di La, utilizzando il pollice tecnica del tiongo. Poi lo strappo sulla corda di Re, in posizione di di Mio, ovviamente, sulla corda di Sol, sempre in posizione di Mio, tecnica del Popping. Quindi, esercizio preparatorio. Come avete sentito, non ho lasciato la corda libera per non sovrapporre le due frequenze. Quindi, ho chiuso con il palmo di mano destra la vibrazione. Quindi, questo esercizio è la sintesi, praticamente, della tecnica dell'ottave. State molto attenti, appunto, all'utilizzo del palmo per chiudere la nota. Esercizio numero 3 del metodo Rock, Funk and Slip. In questo esercizio, sentito un attimo fa, ho utilizzato solo la corda di Mi e il suo corrispettivo l'ottavo, in questa posizione. Quindi, lo rifacciamo, prestando sempre molta attenzione alla mano sinistra e alla mano destra. Passiamo all'esercizio numero 4. Aumentiamo un po' la difficoltà. Prendiamo sempre sulla corda di Mi e il Fa, in questa posizione, poi il Do, il Re e il La. Non ci sono fai rapido, ma non ci sono fai rapido. il video di oggi è terminato vi aspetto al prossimo dove continueremo a parlare di ottave ciao